Salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi ultimo episodio di gym alleneremo le gambe ovviamente faremo lo squat ovviamente non così poco peso perché troppo scontato questo poco peso faremo 74 kg più 2 rispetto alla vostra scorsa questo sarà l'ultimo episodio non vi preoccupate ne farò altri ne farò altri però solo se vedo che questa serie andrà avanti voi lasciate like iscrivetevi al canale soprattutto seguite questa serie fate tante visualizzazioni conti vedete questo video è tutta la serie in generale e vedrete che arriverà un'altra stagione di gym per il momento finisce qui ultimo episodio vedrete allenamento gambe e addominali ovviamente andiamoci a pesare 59.35 kg grasso corporeo 13,8 rispetto all'ultima volta siamo aumentati 450 grammi e 0.8 per cento di massa e grassa ovviamente non sono numeri sconvolgenti però un po di aumento c'è secondo esercizio la famosissima serie 3 serie per un minuto con 5 kg sopra cominciamo con esercizi un'altra stagione un'altra stagione e un'altra stagione e adesso andremo a fare legge station gamba singola 25 kg per gamba dovrebbe essere un po' pesantizia però però almeno facciamo un 4x8 anzi un 4x10 a gamba ovviamente sproviamo comunque vediamo come va la stagione la stagione le 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 i le 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 Don't waste time to my place I feel my heart erase So catch me if I fall Come on, I don't want to see if I fall For the last exercise we have colpacci, perfumacchini, 70 kg, 3 serie perfumacchini, 15 kg, ripetizione. Ora l'elemento down è terminato. Ragazzi, vi dirò, non è stato distruttivo come l'elemento, però dai, alla fine il peso non era tantissimo, ma neanche pochissimo, quindi vabbè ci sta, l'elemento normale. Ragazzi, adesso ci faremo gli addominali, partiremo con un grunge, grunge da abbalzate con 5 kg, faremo 3 serie per 20 ripetizioni, poi laterali per finire i passi. Iscriviti al canale 1 e 2 faremo laterali, sempre con il grunge da abbalzate, per serie per 12-15 lato. Iscriviti al canale Laterali terminati, adesso faremo addominali bassi, i level scrunch sulla panca, ovviamente. In questo esercizio faremo 3 serie per 15 con questo, ma non più da 2 kg più un peso da un dito, totale 3 kg. Iscriviti al canale Iscriviti al canale Iscriviti al canale Iscriviti al canale